eh, rischione riusciamo a pallapiede, riusciamo a pallapiede stavolta vai Alessandro, non ti chiedo male non sappia come è fuori giù vai Danucci, Danucci Alessandro tira gol 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 è gol è gol è gol e vai bellissimo ma chi è? è lo bello sì chi è? sì vai ragazzi forza così vai sì che è lui bellissimo bellissimo così